Okinawa a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video di Clash of Clans signori e quest'oggi siamo qui con un attacchino un po' particolare ma prima di iniziare il periodo è questo sotto in descrizione c'è il link della mia mazzo wishlist se volete passarci a darci un'occhiata e magari farmi un regalino io ne sono molto molto onorato inoltre c'è il bellissimo sito di Kofi dove potete fare la donazione singola o a cadenza mensile scegliete voi il prezzo, scegliete voi tutto direi che è molto molto onesto e soprattutto mi aiutate con la mia nuova postazione che prima o poi prenderà forma andiamo subitissimo a vedere le nostre truppe però prima volevo farvi vedere un pochino di miglioramenti che stavo attuando all'interno del villaggio ovviamente le mura continuano a migliorarsi ce ne mancano tre murettini qui sotto in basso e abbiamo completato questa prima parte di mura a livello 14 che costano un fortio 3 milioni a muro è veramente tanto però piano piano ci riusciremo a portarcele tutte quante full 14 che direi che è abbastanza onesto sta migliorando cioè si sta costruendo la nuova difesa mancano soltanto 5 giorni i depositi di oro ne mancano circa 2 giorni e 6 ore come ho scritto qui sopra quindi raga tra poco tra 2 giorni e 6 ore possiamo mettere la seconda difesa di quelle nuove quindi io devo mettermi a farmare tanti e tanti e tanti tantissimi di quei soldi ma prima di fare ciò direi che possiamo andare a migliorare subitissimo il fabbro livello 7 con un martellino non mi va di sprecare 12 milioni anche perché uno non ce li abbiamo attualmente e due vorrei risparmiarli per le nuove difese quindi utilizziamo subitissimo questo martellino ci lo portiamo a livello 7 perché così possiamo potenziarci ulteriormente il pupazzo del guaritore che incomincia ad essere abbastanza interessante abbiamo 3 unità evocate dobbiamo arrivare al livello successivo quindi invece che il livello 7 dobbiamo arrivare al livello 8 delle unità il prossimo livello sarà proprio esattamente quello quindi ottimo ce l'abbiamo attualmente al 17 lo porteremo tra poco al 18 però 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 dobbiamo accumulare un po' dei risorsini andiamo a vedere l'attacchino di quest'oggi raga non so se con la webcam probabilmente voi non vedrete nulla qui sopra quindi io cambio un secondo scena in modo da farvi vedere allora abbiamo 6 guardiane della selva mi pare che si chiamino così se non mi sbaglio comunque 6 guardiane chiamiamole guardiane appunto a prescindere da ben 16 valchirie raga che direi che sono molto molto oneste 6 streghette che mettiamo tutte quanta dietro come incantesi abbiamo 4 cure possiamo passare di nuovo alla schermata in modo che vedete 4 cure e 3 gelo direi abbastanza onesto gli eroi andiamo a mettere qualcosa nel castello nel castello cosa ci mettiamo ragazzi siccome l'attacco principalmente è puntato sulle valchirie io direi che possiamo provare ad aggiungere altre valchirie al nostro attacchino allora vediamo un po' allora valchirie vai così ce ne possiamo mettere 6 buono 6 valchirie non sono male e ci ficchiamo uno sgherro vai giusto per come pozioni raga io direi che possiamo aggiungerci una furia tanto perché abbiamo tante cure abbiamo tante gelo quindi una furia e una gelo secondo me è una combinazione molto molto good e soprattutto direi che lascerò il la sputatronchi quindi l'abbiamo già moxata e non serve prendercela direi che possiamo procedere e andiamo a cercare il nostro primo avversario raga perché questo sarà un attacco molto 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 spam ovviamente spero di trovare un belagino abbastanza interessante però mi sono dimenticato di comprare anche la pozione per le truppe raga perché vogliamo provare l'attacco full maxed allora intanto ci prendiamo questa qui che è gratuita e direi che è molto interessante allora dov'è la pozione per le truppe medaglie degli assalti pozione pozione la pozione per le truppe eccola qua 150 medagliette e ce ne andiamo a cercare la nostra partitella vediamo un pochettino se riusciamo a trovare magari un villaggetto inattivo o comunque molto 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 ricco di risorse cosa che a noi ci interessa tanto specialmente l'oro quindi raga punteremo maggiormente su quello maggiormente sull'oro questo è un bel villaggino in realtà da attaccare c'è un 800.000 800.000 potremmo fargli abbastanza male alle inferno multiple ok ci sta raga io direi che questo ce lo possiamo provare ad attaccare che dire secondo me potrebbe essere interessante allora andiamo a potenziare il nostro esercito e potenziamo anche gli eroi così abbiamo tutto full maxed e possiamo iniziare con il nostro attacco cosa principale andiamo a piazzarci tutte 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 le nostre guardiane dietro subito di valkyrie prepotentemente vai con le streghe raga proprio veloci non dobbiamo perdere troppo tempo dobbiamo stare attenti che se no ci muore qualsiasi cosa ok allora direi che possiamo iniziare con la prima cura e la seconda cura le piazziamo qui andiamo a congelare questa vai vai ragazzi stanno entratte vado de furia congeliamo un secondo qui che fanno danno oppure anche in quel modo con il mega monolito che raga fa malissimo fa malissimo cure a profusione io direi che geliamo un'altra volta qui raga l'attacco utilizziamo l'abilità del sorvegliante direi che sta andando abbastanza bene non ho piazzato la campionessa reale ma vabbè c'è sta raga me ne sono scordata una dietro direi che abbiamo praticamente smacinato smacinato tutto quanto il villaggio bello raga guardate quante ancora truppe abbiamo in vita cioè un botto tantissime raga streghette qui che puliscono qualsiasi cosa bello le vachiri ancora le gassane come non mai guardatele qua quanto so cattive con l'abilità del sorvegliante che gli dà un pizzico di furia quel piccolo pepe in più che fa veramente male raga 100% senza attivare manco l'abilità dei reali quindi direi molto 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 godurioso e secondo me questo attacco raga merita davvero tanto merita davvero tanto quindi proviamo a utilizzarle di nuovo con un secondo attacco sperando ovviamente di riuscire perché raga se funzionano così bene potrebbe essere un'ottima combinazione e un rinforzino lo abbiamo fatto otteniamo subitissimo mille minerali questi gustosi raga gustosissimi ci servivano proprio quanti ce ne mancano possiamo potenziarci le nostre curatrici ecco non mi veniva il nome raga vabbè se ci stessi rincoglionati prima mattina ci sta sempre sempre curatrici livello 8 direi che sono molto gustose livello massimo raga siamo portati finalmente il pupazzo del curatore al max e questo è un ottimo traguardo un ottimo traguardo perché è una delle abilità penso migliori da dare alla nostra queen ok vediamo un po' questo villaggino è interessante per quanto riguarda il desire ma l'oro ce ne ha un po' poco raga a me mi serve tanto tanto oro quindi voglio puntare a qualcosa di meglio cerchiamo un pochettino il nostro villaggio da attaccare e ci vediamo tra pochissimo appena l'abbiamo trovato bene ragazzi eccoci qui con il nostro obiettivo allora questa volta non sarà semplice non sarà semplice perché è un th16 abbastanza andante diciamo abbastanza andante con le difese quasi full max raga quindi dobbiamo stare abbastanza attenti più che altro non ha maxato le difese aeree ma a noi ce ne frega poco perché non ci riguardano visto che facciamo un attacco di terra prepotente allora io vorrei attaccare da questo lato qui all'inferno multiple quindi top qua ce n'è una singola e dobbiamo stare molto 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 attenti a questa quindi quindi raga attacchiamo da questo lato attacchiamo da questo lato in modo che ci spacchiamo tutte quante le difese prepotenti subito raga vai così mettiamo subito una gelo qui perché sennò ci fa male piazziamo vai tutte le nostre vacchiriette via via veloci così raga non ce ne dobbiamo pensare troppo e dobbiamo stare attenti che non esplodano male allora mettiamoci un'altra gelo su questa vai raga de furia così prepotentemente entrate verso l'interno per favore vi prego vai un'altra qui poi andiamo a gelare qui sopra è ottimo raga stiamo entrando all'interno del villaggio direi onesto un'altra gelo piazzata tatticamente in questo punto vai abilità del sorvegliante raga l'interno del villaggio è praticamente nostro ci manca da distruggere l'artiglieria aquila che è l'unica difesa che attualmente ci potrebbe mettere in serie serie difficoltà oltre al monolito che vabbè è andato giù come niente quindi ottimo ottimo le truppe un po' rallentate per colpa della pozione veleno in difesa però raga in teoria in teoria noi dovremmo aver maxato tutto il villaggio maxato questa di stamattina raga dovremmo aver distrutto distrutto non maxato distrutto tutto quanto il villaggio avversario è rimasto davvero poco pochissime difese loro ce lo siamo portati tutta a casa quindi attacco riuscito al 100% per me anche se non completiamo il 100% del villaggio ma raga abbiamo una regina al 95 full vita con l'abita ancora da attivare se non è un 100% questo io non mi chiamo ciris e quindi infatti non mi chiamo ciris però va bene raga va bene così va bene così diretti vai c'è rimasto pochissimo da pulì non so neanche se attivare l'abita della regina perché non ci serve l'attiviamo giusto per fargli fare un po' di danno in più più velocemente sono rimaste due difese che le ha squagliate istantaneamente oddio c'era anche un arco x che non avevo notato ciris cieco stamattina raga va bene e raga è full villaggio fatto bello 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 questo 100% se la regina se sbrigasse rompe questo muro di me perché poi stai a rompe il muro ma fai il giro verso di qua era più semplice no la regina è rincoglionita vai portaci il 100% a casa vedi di non morire sbrigate uccide starco x velocemente e signori ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta ci siamo portati a casa un milioncino e quasi 700 mila tili sire che devo dire not bad not bad e siamo con esattezza 6 milioni raga a quasi un passo più o meno ci mancano 14 milioni di oro però devo dire che raga l'attacco con queste truppe qui quindi ve le faccio rivedere di nuovo è veramente veramente molto molto sgravo 16 valchirie 6 streghe e 6 guardiane delle selve si chiamino così 4 cure 3 gelo e il nostro sputato ronchi maxato ovviamente regà nel castello altre valchirie che fanno il danno finale una volta arrivati all'interno del villaggio direi top 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 veramente un'ottimo un'ottima combinazione quindi io vi invito a lasciare un bel mi piace di supporto se vi è piaciuto questo video soprattutto se vi è piaciuta questa combinazione e un commentino scritto cosa ne pensate se secondo voi è veramente così forte se l'avete già provata in precedenza o se la proverete adesso dopo che avete visto questo video e soprattutto consigliatemi altre combinazioni di truppe da portarvi nei prossimi video io sarò felicissimo di farlo vi invito ad iscrivervi al canale molto importante e soprattutto a condividere il video con i vostri amici ancora più importante noi ci vediamo alla prossima bella regà ciao